E ad un tratto ho trovato questo. Craxi uguale falso uguale ladro. Chi era? E perché sappiamo che è un graffito fatto nel 1992? Benedetto Craxi, detto Bettino, nasce a Milano nel 1934 e dopo una lunga carriera politica all'interno del PSI, Partito Socialista Italiano, ne diventa segretario per 14 anni e poi, primo socialista nella storia, diventa presidente del Consiglio dal 1983 al 1987, periodo in cui l'Italia cresce economicamente molto, ma moltiplica a dismisura il suo debito pubblico. Oratore eccelso, la sua carriera politica termina con lo tsunami di Tangentopoli, nel 1992 appunto, che lo vede protagonista e condannato. Muore nel 2000 la titante in Tunisia, Adam Hammett, titolo scelto per un recente e molto intenso film dedicato agli ultimi anni della sua vita. Riuscire a trattare la vita di un uomo così importante in un minuto è pura illusione, è solo un invito ad approfondire. Se ti è piaciuto seguimi, scopro le tracce che la storia ha lasciato lungo le nostre strade e te le racconto.